Sara, ciao Sara, come stai? Bene, grazie. Ma sei piccola, tu quanti anni hai? No, non sono proprio piccola, ho 43 anni. E qual è il segreto di arrivare a 43 anni con la faccia da bambina? È il video, non ti sento più Red. Ah perché mi sono mutato, di dove sei Sara? Sono della provincia di Monzabrianza, Misinto. E cosa fai nella vita tu? Allora al momento sono disoccupata e mi occupo di mio figlio, però ci tenevo a dirti che sono la mamma di Carlotta. Mi deve ricordare, facciamo un attimo, chi è Carlotta? Il libro di Sonia. Ah il libro di Sonia, sei la mamma di Carlotta che l'ho citata. Mamma mia, sai che ho pianto io? Io a leggere la tua storia, io ho pianto. Cioè io ho iniziato, non so se ce l'ho qui il libro di Sonia, fammi vedere se ce l'ho. No, qui non c'è, non so dov'è perché c'è un caso. Ha caduto tutto. Ah l'ho lasciato, ah sì, l'ho lasciato a We Have Dream, non ce l'ho qui. Però io veramente, allora racconta un po' la tua storia, quella che hai raccontato nel libro di Sonia. Carlotta nasce nel 2018, il primo giugno, è una bambina fantastica, non perché è mia figlia, ma perché è veramente fantastica. Poi purtroppo all'età di due anni, nel 2020, in pieno periodo Covid, abbiamo scoperto praticamente la malattia, ha avuto un tumore il cervelletto. E nel giro di tre mesi è andata nell'oltre. E da lì è stata molto dura Red, tantissimo. E noi ci siamo ritirati a casa dei miei suoceri al mare in Calabria e anche nel libro l'ho scritto. Insomma, pensavamo di non tornare più e raggiungere nostra figlia, questa è la verità. Poi lì si è fatta sentire veramente tanto, con segni, ci mandava uccellini, cucchiaini dei gatti con cui davamo da mangiare gatti che ci sono giurandagi, sparivano, poi tornavano, un sacco di cuori, segni nel cielo, delle foto, delle testimonianze abbastanza attendibili, ecco, anche da chi magari può non credere. E poi è arrivato il libro di Sonia. È arrivato il libro di Sonia tramite mia cognata, che l'ha comprato. E da lì si è aperto un mondo, che inizialmente aveva già aperto Carlotta in vita, perché lei vedeva mio padre, che è il nonno di cui hai parlato tu nell'intervista con Sonia, la cosa che ti aveva colpito. Poi ci aveva detto che era un angelo, una sera a cena, a un certo punto ha detto, angelo, angelo, noi le abbiamo chiesto ma chi è angelo? E lei ci ha risposto io, faceva così e io. Poi aveva una padronanza della parola molto formata per l'età che comunque aveva. E giù in Calabria, sempre, ho ritrovato questo video, dove eravamo in ospedale, lei era appena stata operata, la prima operazione, e stava mangiando la pizza, a un certo punto ha guardato fuori dalla finestra e lì mi sono resa conto, perché questo video l'abbiamo girato noi, ma al momento non ci avevamo pensato. Ha iniziato a guardare il cielo e ha detto, guarda cielo, tutto blu, questo cielo è mio. E lì abbiamo capito che nostra figlia ci voleva dire qualcosa, che comunque la morte non era la fine, che lei c'era. E poi la cosa meravigliosa il contatto, il primo contatto di Sonia, che l'abbiamo avuto il 14 gennaio del 2021, siamo entrati, ci ha subito accolto, ci ha subito detto che comunque stava bene, che è passata subito, che non ha sofferto, che era con tante persone, poi vi dico con chi sono qui, e ci dice che è lì col suo fratellino. E noi sterefatti abbiamo fatto un sorriso, perché insomma, fratellino, ok? Sonia ci chiede se era figlia unica, e alla fine praticamente ci dice, sì, c'è qua mio fratello, si chiamerà Matteo, è il bimbo che verrà, si chiama Matteo, si deve chiamare Matteo, perché Matteo è un dono di Gesù. E da lì Redd è partita tutto il nostro percorso, il nostro cammino verso un mondo sconosciuto, e adesso siamo liberi, siamo liberi, riusciamo a raccontare la nostra storia con più serenità, perché abbiamo la percezione comunque che nostra figlia c'è, che comunque si fa sentire tutti i giorni, a suo modo, però insomma noi la percepiamo. E poi con i contatti di Sonia ci ha dato veramente tanta tanta serenità. No, ma sai la cosa incredibile, la cosa incredibile è, ok, i contatti ci sono, ma la cosa incredibile è che poi dimostra un'altra teoria, è che lei dica sono qui con Matteo, e voi non sapete neanche perché tu non eri incinta in quel periodo e non credo che tu… No, no, sono stati dati tre mesi, Sonia ha sentito tre mesi, era il 14 gennaio, poi fate voi i conti, Matteo è nato il 12 gennaio del 2022, cioè io sono rimasta incinta tre mesi dopo. Ecco, questa è la dimostrazione che bisogna accettare i propri genitori, perché nella cattiva sorte, perché li abbiamo scelti prima di nascere, abbiamo un karma, dobbiamo nascere da loro. E anche questa cosa che non è accaduta solo a te, Sara, è accaduta anche, Sonia mi ha raccontato anche di altri casi in cui ad esempio madri arrivavano a Frante e il figlio che avevano perso, eccetera, o la figlia, diceva adesso vi arriverà un fratellino, un mio fratellino vi arriverà, e lui diceva ma come, ma io non posso avere figli, ormai sono quasi meno pausa, eccetera, e arrivava puntualmente. Abbiamo conosciuto quei genitori, in una organizzazione è stato bellissimo, sì. Però vedi, la cosa molto bella è che voi avete passato un dolore incredibile, tant'è vero che Sonia mi ha detto che lei ha sempre dato precedenza ai genitori che avevano perso i figli, perché fin quando tu impendi dei genitori, degli amici, eccetera, però perdere i figli è qualcosa di… che soltanto un genitore può capire, perché nessuno può capire qual è il quale… e vedere te con quella faccia serena, hai capito, vuol dire proprio che hai capito, che Carlotta ti è servita a capire, hai capito? Assolutissimamente, la nostra missione ormai è questa, quella di cercare di far capire che comunque la morte è solo un passaggio, è solo un passaggio, non è il distacco, poi l'amore vince su tutto e ci ha portato tanto Carlotta, perché ci ha dato tanti impegni, abbiamo anche un'associazione, quindi insomma… Allora, tu pensa come vi ha cambiato la vita, cioè dopo che lei se n'è andata via, volevate andare via anche voi, non ve ne fregava più niente di niente, dopodiché cosa succede? Che cominciate a notare i segnali, quindi cominciate a dire ma perché arrivano degli uccellini, perché vedo dei cuoricini, perché spariscono i cucchiaini? E quindi poi arriva Sonia nella vita e vi fa avere un contatto con Carlotta che vi tranquillizza e da lì la vostra vita è cambiata. Tu che cosa fai di lavoro, Sara? No, io lavoravo, però da quando è nato Matteo mi sono licenziata per… Sì, ho capito, fai la mamma, ma che lavoro facevi? Lavoravo, allora, ho lavorato per vent'anni in profumeria, quindi facevo la commessa e poi negli ultimi anni facevo praticamente la rappresentante, sempre per la stessa azienda, quindi sembra ambito cosmetico parrucchieri. Ok, e tuo marito? Mio marito lavora in ambito medico, nel senso che è uno specialist e praticamente si occupa di ortopedia, assiste, praticamente fa la vendita di prodotti ortopedici, ecco, per operazioni. Ecco, allora, allora, chi lavora nella scienza, nella medicina, sono quelli più difficili per capire che esistono altre, perché loro lavorano, la scienza dice no, l'anima ha un peso, quando va via dal corpo cala di tre etti, il corpo e fine lì. Ecco, quando è che lui ha capito e si è convinto? Guarda, ti dirò la verità, è stato lui ad avere l'istinto quando Carlotta se ne è andata, voglio sentire una medium, voglio parlare con mia figlia, questa è stata la frase, che io sono rimasta un attimino un po' destabilizzata, perché nella malattia di Carlotta abbiamo intrapreso comunque un cammino cattolico di fede, classica chiesa, eccetera, infatti vabbè, ringrazio a vita il don che è arrivato, pensa, 15 giorni prima che Carlotta se ne andasse, perché ci ha dato una grande mano, ed è uno di quei don che io dico, ce ne sono uno su un milione, ecco. però è arrivata da lui, è arrivato da lui l'istinto, infatti in alcuni contatti è uscito, che comunque parla il cuore di papà, quindi molto probabilmente lui ha sentito questa spinta data da sua figlia e da lì praticamente poi la zia ci ha aiutato perché ha iniziato a comprare una marea di libri esoterici, che parlano di anime, eccetera, tra cui il libro di Sonia. Quindi quello che ti posso dire è che molto spesso, purtroppo, le coppie si dividono con un dolore così grande, perché non si è sulla stessa lunghezza d'onda, invece quello che è successo a me e mio marito è che siamo diventati, cioè dopo l'andare nell'oltre di nostra figlia siamo diventati marito e moglie, quindi invece il nostro amore si è unito, ma perché abbiamo sempre camminato allo stesso livello, abbiamo sempre avuto gli stessi pensieri, non c'è mai stato un momento dove io credevo e lui non credeva. Questa è stata fortuna? No, non penso. Penso che probabilmente è stata la nostra scelta animica e di corpo. Io sono del parere che comunque tutto è destinato, no? Arriviamo con la data di nascita, che scegliamo, e ce ne andiamo con la data di morte, che è la data di scadenza, come dico io, e quindi alla fine c'è il libero arbitrio, però noi abbiamo scelto, abbiamo scelto la strada giusta, abbiamo scelto la voglia di aprirci e risvegliarci, perché adesso noi ci sentiamo dei risvegliati. Prima non eravamo così, prima non… sì, ho sempre pensato a mio padre, che comunque se ne è andato nel 2003, quindi gli ho sempre parlato e tutto, però era completamente diverso, no? C'era un po' il timore e la paura della morte e adesso non ce l'abbiamo più, non ce l'abbiamo più. Vedi, devo dire che è incredibile, avete avuto paradossalmente quello che è stato un dramma, cioè il fatto che Carlotta, vostra figlia, se ne sia andata, quanti anni aveva? Due. A due anni. Il fatto che se ne sia andata è un dramma, però alla fine serviva. Lei era venuta, il suo compito era quello di venire ad aiutarvi, quindi ha fatto un breve percorso, perché poi le persone dicono, ah ma che sfortuna, ma cosa ha servito una vita così breve, eccetera, invece no, aveva un compito, aveva un compito di aiutarvi e lei lo ha fatto per un breve passaggio. Quanti anni ha adesso Matteo? Matteo ha 17 mesi. Ma capisce già, parla già? No, non ancora, dice solo mamma, anche papà, mamma lo chiama. Ma io sono curioso di sapere quando voi, quando deciderete di raccontargli questa storia? Ma in realtà gliela raccontiamo tutti i giorni, perché alla sera prima di andare a letto dal bacio a papà e dal bacio a sua sorella e ti dirò che non è nostra immaginazione, perché anche Sonia ce l'ha confermato e a volte è capitato, guarda, una delle cose più eclatanti ti racconto, una notte alle due del mattino si è svegliato, lui prende ancora il seno, no? E si è svegliato, a un certo punto si è seduto sul letto e ha iniziato a ridere da solo, ma non era da solo, noi abbiamo capito che non era da solo, perché si guardava alle spalle, faceva finta di sarnutire, perché lui quando sarnuti praticamente gli viene da ridere e poi rideva, tanto che ci siamo guardati io e mio marito e gli ho detto, Carlotta, amore di mamma e papà, di notte no, vieni di giorno, hai sbagliato orario e infatti non è più accaduto, però ogni tanto di giorno lo vedi che segna, ti dà delle percezioni, quindi ti dico la verità, non vedo l'ora che inizi a parlare, perché so benissimo che i bambini sono molto aperti, fino ai 5-6 anni, ma quello che vogliamo è che lui mantenga questa sua apertura, perché purtroppo nella società... Lascialo libero, perché purtroppo noi crediamo che stiamo educando i bambini, in realtà gli stiamo togliendo ulteriormente la memoria con le vite passate, con le energie, con le frequenze... Io non voglio che abbia paura e che sia l'ombra della sorella morta, piuttosto che deve essere comunque consapevole che comunque la morte non deve far paura, fa parte della vita e quindi cercheremo, adesso sinceramente non so ancora con quali parole e quali metodi, però so che da Carlotta arriverà il suggerimento giusto e riusciremo a compiere anche questa cosa importante per suo fratello, perché poi per lei è la priorità Matteo, ne parla sempre, sempre. Scusa ma quella bimba è nella foto in bianco e nero e Carlotta? Sì è un... non so se si riesce a vedere bene, aspetta che... te la inquadro... Quello è un piccolo alieno eh... Sì è... l'abbiamo sempre detto... ma io penso che anche Matteo lo sia e ti dico la verità... perché ama luci, robot e cose che girano, impazzisce, quindi tutte le volte diciamo capito tu arrivi da un altro mondo... Sì no ma quella lì, guarda, no ma qui sono tutti alieni in questa casa ragazzi, anche quel gatto lì c'hanno sguardo, no ma sono impressionato sai che cosa, dallo sguardo, l'ho visto poco perché si vede poco della foto di Carlotta, perché ha degli occhi con una determinazione pazzesca. Ti faccio vedere... guarda, ti faccio vedere queste foto... non so se qui la vedi meglio... Guarda lì, cioè tu guarda gli occhi... sai che... allora posso dire... sai che gli occhi che mi ricordano quelli di Sonia? Un po'? Ah sì? Che bella cosa che mi hai detto... sai che Matteo è la prima volta che ha visto Sonia, recentemente, diciamo quest'anno, perché vabbè, purtroppo non facendo più contatti la vediamo in altre occasioni e abbiamo mangiato qualcosa con lei e era la prima volta che lo vedeva da così grandicello, no? L'aveva visto che praticamente aveva due mesi quando siamo andati che era nato e lui è molto diffidenti con le persone che non conosce, tende sempre comunque a... inizia... quando ti avvicini, no, 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 no... gli ha dato subito un bacio, gli ha mandato subito un bacio e continuava a guardarla. E oggi ho rivisto l'intervista che hai fatto con Sonia, perché mi ero persa delle cose e quindi volevo ascoltarle bene e lo stavo allattando, appena ho acceso la tv che ha sentito la voce di Sonia si è girato e ha iniziato a guardare il televisore. Infatti gli dico, tu la conosci già Sonia, vero? Venivi con tua sorella, quindi... Ok, ok. Che belle cose, molto utili anche, molto utili a tutte le persone, soprattutto a quelli che pensano che questa sia l'unica vita che viviamo. No, infatti e spero di poter aver dato un piccolo sollievo a quei genitori che invece purtroppo magari si perdono. Sì, prima leggevo dei commenti, non sono stato l'unico a piangere nel leggere la tua storia, la storia di Carlotta, perché... perché veramente... Noi siamo estremamente orgogliosi di avere una figlia così, non cambierei nulla, è duro, è dura tutti i giorni, perché fisicamente manca... non c'è una parola che lo possa descrivere, però siamo fortunati, siamo fortunati perché sono due bimbi speciali e con grandi missioni e forse siamo consapevolmente arrivando al dunque che forse ce l'abbiamo anche noi, una grande missione. E quindi cercheremo con tutte le forze di portarla avanti. Ok, ciao bambina. Grazie Red, di tutto. Comunque vedi, torno a dire quello di prima. Tu non c'hai quell'età che c'hai, sei molto più giovane. Da un lato sei molto più giovane e da un lato sei millenaria. Ciao, ciao Sara. Un abbraccio, ciao a tutti. Che belle storie. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi,